Benvenuti in questa lezione di Vio Slow. Se non conosci il canale sono Enzo Ventimiglia, fondatore di Matthew Ken, la più grande piattaforma di video lezioni di Pilates e Yoga in Italia, dove abbonandoti avrai accesso a centinaia e centinaia di lezioni come queste, con me e con alcuni tra i migliori insegnanti in Italia. Se sei interessato o interessata c'è un link qui sotto che ti permetterà di accedere alla prova gratuita di 7 giorni e durante la prova avrai accesso in modo integrale a tutti i contenuti presenti all'interno della piattaforma così da toccare con mano le potenzialità di Matthew Ken. Inoltre sarei felice se ci aiutassi a far crescere il nostro canale YouTube iscrivendoti, ti basta cliccare sul pulsante iscriviti qui sotto e in questo modo ci aiuterai ad espandere la nostra realtà e a far conoscere la bellezza di un sano equilibrio tra mente e corpo a quante più persone. Ti ringrazio in anticipo e buona lezione. Benvenuti su Matthew Ken. Oggi vedremo una sequenza di otto posture di yoga, alcune un po' modificate utili a dallentare la tensione dalla bassa schiena, quindi è una sequenza di otto semplici posizioni statiche che possiamo utilizzare tutte quelle volte in cui percepiamo un po' di rigidità nell'area lombare sacrale o anche quando magari sapendo di avere delle piccole protusioni avvertiamo dei fastidi o persino quando percepiamo un po' di dolore irradiato nel territorio del nervo sciatico, quindi lungo la gamba. Sono, come vi dicevo, posizioni molto semplici. Ti invito però a rimanere in ascolto relativamente alle sensazioni che avvertirai nel mantenere queste posizioni. ti darò delle indicazioni, quindi laddove magari adattando leggermente la posizione in una delle modalità che attraverso le quali ti guiderò dovessi sentire più confortevole la posizione, evita insomma di mantenere quella che magari è più esteticamente bella per invece optare per quella che ti fa sentire un tantino meglio, quindi magari riducendo per esempio l'ampiezza di movimento laddove è necessario. Bene, iniziamo con un semplice e conosciuto esercizio che è il cut and co, quindi ginocchia sotto il bacino, mani sotto le spalle. Questo sarà l'unico delle posizioni che faremo, l'unica dinamica, ovvero dove alterneremo due movimenti estensione e flessione della colonna e proviamo a farlo lentamente, così da percepire il movimento che parte dalla base della colonna vertebrale e che progressivamente, anche quasi oscillando leggermente, quasi a volere massaggiare la colonna e quindi questo movimento che pian piano, pian piano risale dalla zona sacrale lombare verso la regione toracica fino a rivolgere lo sguardo verso le cosce, quindi optiamo per una un cut and co molto molto lento e poi sempre dalla base della colonna vertebrale nuovamente riapriamo la colonna vertebrale verso l'estensione e gradualmente muoviamo lo sguardo in avanti e ancora quindi fuori l'aria dalla base della colonna vertebrale fino alla sommità del capo e dalla base della colonna vertebrale fino alla sommità del capo verso l'estensione. Ancora un paio di volte possiamo adesso pian piano, percependo la colonna che si scioglie un po', la schiena che si scioglie un po', aumentare il ritmo, ma comunque considerato quello che è l'obiettivo della lezione ti consiglio di muovere, di passare dalla flessione all'estensione in modo molto progressivo e graduale anche cercando di connetterti con le sensazioni del respiro, quindi fuori l'aria quando arrotondi e inspira. Immagina che sia l'inspirazione a creare spazio tra le vertebre e l'espirazione a massaggiare tutti gli spazi, quindi a nutrire dischi intervertebrali. Immagina mentre inspiri come se ogni spazio tra le vertebre fosse un cassetto da schiudere. Benissimo, a questo punto passiamo alla seconda posizione che è la posizione di chiamata nello yoga anahata asana ma anche posizione di apertura del cuore. Allontaniamo le mani, teniamo le ginocchia sempre al di sotto del bassino e la posizione consiste nell'avvicinare il torace al petto. Ora più abbiamo le ginocchia indietro più sentiremo range di movimento, quindi sentiremo la posizione più ampia, ma allo stesso tempo sentiremo meno protezione per la schiena. Quindi prova a trovare la distanza delle ginocchia giusta affinché tu possa percepire il giusto supporto. L'altro limite è dato dalle spalle. Più apriamo le spalle, più sentiamo la regione toracica, cedere verso il basso. Più le chiudiamo, più invece sentiremo resistenza nelle spalle. Anche qui trova l'apertura giusta per te e mantieni la posizione. Ovviamente questa posizione qui potrebbe sconfinare in un'estensione molto ampia della colonna vertebrale, quindi potremmo arcuare molto, ma non è l'obiettivo di questa lezione, considerato che si tratta di una sequenza dedicata al mal di schiena. Quindi resistiamo alla tentazione di implodere del tutto verso il basso, contenendo un po' la postura, quindi avvicinando le ginocchia, chiudendo magari un po' le mani, fino a trovare il giusto equilibrio tra apertura e comfort. Potresti poggiare la fronte sul tappetino oppure su un asciugamano o lasciarla sospesa. Ora dedichiamoci alcuni istanti a percepire il respiro che si espande tra le scapole quando riempi i polmoni e senti i lati del torace accogliere l'inspirazione. Senti che la tensione aumenta durante l'inspirazione, quindi potresti a livello micro percepire il petto allontanarsi un po' quando inspiri e cedere di nuovo verso il basso quando espiri. Se sentiamo fastidio alle spalle arretriamo ancora un pochino e spostiamo il peso dietro. Bene, lentamente veniamo fuori dalla posizione e adesso la terza è thread the needle, quindi infilare l'ago. Portiamo i polpastrelli della mano sinistra in questo modo un po' più avanti, quindi partendo dalle mani sotto le spalle la sinistra va un po' più avanti, poi inseriamo il braccio destro e ci lasciamo avvitare, avvitare, fino ad incontrare con la spalla e la testa il tappetino. Poi è importante il ruolo della mano sinistra, vorrei che il gomito salisse verso l'alto e allo stesso tempo trazione il tappetino verso di te. Ora, più spostiamo il bacino verso destra più sentiamo che la torsione diviene intensa, più spostiamo il bacino verso sinistra più sentiamo che la torsione diminuisce e la posizione diventa leggermente asimmetrica. Trova anche qui il giusto equilibrio e espandi il respiro nel lato sinistro della gabbia toracica. Ad ogni ispirazione immagina luce, energia, penetrare negli spazi tra le costole a sinistra e ad ogni ispirazione visualizza tensioni, resistenze, piccoli fastidi, abbandonare la colonna vertebrale. E lentamente ritorniamo su. Vieni molto lentamente fuori da queste posizioni, ci prendiamo un istante di posizione neutrale, quindi spostiamo la destra in avanti e andiamo ad inserire la sinistra stavolta. E nuovamente incontriamo con la spalla e la testa e il tappetino. Ci lasciamo avvitare, gomito destro alto, trazione il tappetino a te e mantieni anche i piedi attivi al suolo. e nuovamente ritorniamo su. Bene, addentriamoci a questo punto nella quarta posizione. Portiamo il piede destro in avanti, si tratta di un semplice lange, radichiamo il dorso dei piedi, portiamo le mani sul torace e in questo lange vorrei che, mentre muovi il bacino nella direzione del piede avanti, quindi il destro, in opposizione provassi leggermente a contenere l'espansione toracica. Mantieni la posizione con il piede destro, traziona delicatamente il tappetino verso il ginocchio e con il ginocchio sinistro spingi il tappetino delicatamente indietro. Richiama la nuca indietro in alto e senti gradualmente il compartimento frontale dell'anca sinistra rilasciare tensione e se ti senti abbina una micro flessione laterale, percepisci il respiro e poi ritorniamo. Stessa cosa con la sinistra, quindi muoviamo il bacino nella direzione del piede. Il piede deve essere sufficientemente avanti da percepire stabilità. Cosa intendo? Se abbiamo una posizione molto stretta e il ginocchio andrà oltre, non è tanto il fatto che il ginocchio che vada oltre sia sbagliato giusto, ma avrò meno protezione per la schiena. Se porto il piede un po' più in avanti avrò un po' più di resistenza, incontrerò, però allo stesso tempo anche un pochino più di protezione. Ovviamente se sentite fastidio al ginocchio potesse posizionare un plaid sotto il ginocchio. Quindi più il bacino avanza, più prova a contenere l'espansione toracica. Richiama la nuca indietro in alto. Se vuoi fletti leggermente verso la tua destra, verso la tua sinistra, scusami, verso la gamba avanti. Con il ginocchio destro spingi indietro, con il piede sinistro trazione al tappetino, verso il ginocchio destro. Ogni volta che inspiri percepisci la tensione aumentare in tutto il compartimento frontale, ma anche nella regione degli obliqui di destra. E ritorniamo. Nella prossima posizione portiamo la gamba destra in avanti, la distendiamo. Facciamo in modo che il ginocchio sinistro sia al di sotto del bacino. Iniziamo a ruotare l'anca all'interno e posizioniamo la mano destra sull'ischio. Quindi puntando l'ischio a destra indietro, appoggiamo la mano sinistra in un punto fuori dal tappetino lontano e quindi percepiamo questa opposizione tra il bacino che si muove adesso in basso a destra e il torace che si muove in alto a sinistra. Questa è un'ottima alternativa al classico stretch sui muscoli posteriori delle cosce perché andiamo ad allungare in modo specifico il territorio del nervo sciatico, i bicipiti femorali. E lentamente ritorniamo. Cambiamo lato, quindi sinistra, gamba distesa. Importante non andare in avanti ma rimani con il bacino ben al di sopra del ginocchio della gamba piegata. Quindi avvitiamo di nuovo all'interno, la mano sull'ischio, quindi la base del bacino. Appoggio i polpastrelli della mano, quindi meglio i polpastrelli, non tutto il palmo per avere un pochino più di range, eventualmente anche uno yoga block e quindi ci sediamo verso sinistra indietro mentre muoviamo il petto verso destra in avanti. Continuiamo a mantenere la posizione alimentandola attraverso il respiro. e poi ritorniamo lentamente. Bene, a questo punto ci mettiamo in piedi. Posizione del guerriero. Nella posizione del guerriero 1 è una posizione molto confortevole per la schiena finché manteniamo un baricentro alto. Tutte le volte in cui andiamo molto in basso ovviamente la colonna vertebrale dovrà adeguarsi. Sempre in linea con l'obiettivo di oggi manteniamo un baricentro più alto. Lasciamo che il bacino ruoti leggermente nella direzione della gamba dietro, che il ginocchio destro avanzi, la mano destra si posiziona sull'interno del ginocchio e inspirando il braccio sinistro salirà ad arco al di sopra della testa. E quindi andremo ad aprire gli spazi tra le costole. A sinistra il tallone spinge in basso e continuiamo a crescere verso l'alto. Quindi resisti alla tentazione di implodere verso il basso. Prova invece a ricreare l'intenzione energetica di crescere verso l'alto. Quindi c'è un'intenzione energetica di espansione verso l'alto e un'intenzione energetica di radicamento verso il basso della gamba. E espandiamo ancora di più ed espirando ritorniamo. Cambiamo lato, quindi destra dietro, mano sinistra sull'interno, spalla sinistra larga, il bacino leggermente ruotato, quindi permetti al ginocchio sinistro di avanzare, al bacino di aprirsi, braccio destro ad arco al di sopra della testa. Inspiro, espando, mi connetto con le qualità espansive del respiro ed espiro, rilascio. Ogni volta che inspiro percepisco questa corrente energetica crescere in termini di intensità ogni volta che espiro. Immagina tutto questo canale di connessione tra cielo e terra purificarsi. allunghiamo ancora un po'. Immagina di tendere, di strecciare la pelle, di percepire i tessuti, quindi la pelle e i tessuti sottostanti che si tendono permettendo all'energia di defluire e poi ritorniamo. Bene, a questo punto scendiamo giù. Per questa settima, quindi penultima posizione, utilizzerò una softball. Se non avete una softball abbastanza sgonfia eventualmente come questa, potreste usare un asciugamano ripiegato o un bolster o un cuscino, qualunque cosa che possiate mettere a livello della regione toracica, per poi intrecciare le mani a supporto del capo, chiudere i gomiti, trazionare la nuca ed estendere la colonna. Quindi la softball, l'asciugamano, il cuscino, quello che abbiamo posizionato dovrebbe essere uno spessore tale da permettermi di arrivare a appoggiare la testa per terra con il supporto delle mani, quindi con le mani in mezzo, i gomiti saranno chiusi. Provate a percepire la differenza e provate a sentire com'è. Percepite meglio per voi. Più apriamo i gomiti in fuori, più andiamo ad accorciare il trapezio, ma allo stesso tempo ad aprire i muscoli pettorali. Più chiudiamo i gomiti, meno tensione sentiremo sui muscoli pettorali e la spalla sarà più libera. Ma magari aprire un pochino i gomiti potrebbe essere per voi una sensazione piacevole, quindi trovate l'angolo giusto. In entrambi i casi puntate i gomiti indietro. Manteniamo la mandibola rilassata, i muscoli del viso rilassati. Godiamoci questo fantastico momento di apertura, soprattutto se trascorrete molto tempo al computer o seduti ad una scrivania, con l'inevitabile tendenza di spostare il capo in avanti, restringere i muscoli del petto, protrarre le spalle in avanti e generare un senso di chiusura. Questa è un'ottima posizione, che si apprezza ancora di più quando si viene fuori, poiché sperimenteremo subito una profonda apertura del respiro. Lentamente veniamo su, rimuoviamo il rialzo, ora stesso rialzo sotto l'osso sacro. Anche qui, ripeto, è importante che non si tratti di uno spessore eccessivo. Portiamo il piede sinistro sulla coscia destra, solleviamo. Quindi la palla, il rialzo, quello che sto usando, deve darmi un pochino di aiuto nel affidarmi alla forza di gravità in questa posizione senza generare tensione sul collo. Quindi la posizione è la classica posizione di figure four o posizione del piccione anche, quindi la stessa posizione dell'anca che assumiamo nel piccione. Quindi taglio del piede sull'esterno della coscia, andiamo ad inserire un braccio all'interno, uno all'esterno e afferriamo il ginocchio. Quindi qui possiamo permetterci di affidarci alla spinta della forza di gravità senza usare eccessivamente le braccia. Questo ci porterà anche a generare minore tensione generale. benissimo. E lentamente rilasciamo, ripoggiamo il piede destro, sinistro e cambiamo. Stessa identica cosa. Man mano che avvicinate la gamba a voi, provate ad attivare leggermente l'anca per allontanare il ginocchio dalla spalla. Poi andiamo a stabilizzare. La pianta del piede dovrebbe essere in linea con l'esterno della coscia. Il piede a martello è leggermente, in gergo si dice pronato, quindi come se volessimo proprio far aderire il taglio del piede, lo volessimo uncinare per stabilizzare l'articolazione del ginocchio. Diciamo questa azione serve proprio a stabilizzare l'azione del ginocchio nonostante la pressione che stiamo applicando è minima. benissimo. Senti la tensione dal compartimento esterno dell'anca, la regione del gluteo, defluire. In quell'area passa il nervo sciatico, quindi abbastanza, dovrebbe essere abbastanza piacevole come posizione, molto piacevole, soprattutto se abbiamo, come dicevo all'inizio della lezione, la sensazione che ci sia un po' di irradiazione di dolore nel territorio del nervo sciatico. Ritorniamo giù. Talvolta quel dolore può anche derivare non dalla schiena ma appunto da una eccessiva contrattura del piriforme. Rimuoviamo la pallina. Bene. Apriamo le braccia al lato, ruotiamo un pochino le gambe destra e sinistra. Benissimo. Ruotiamo su di un fianco, ci mettiamo su. Bene. Questa era una breve proposta, una sorta di kit di pronto soccorso che puoi utilizzare tutte le volte in cui hai appunto un po' di risentimento alla bassa schiena. Grazie per avermi seguito e ci vediamo presto su Matthew Ken. Grazie per avermi seguito. Grazie a tutti.